che avete sempre dimostrato. Chiediamo quindi, vado alle richieste dell'interpellanza, se in ordine alla vicenda di Reggio Calabria, che ho riassunto, il Ministero della Salute non ritenga di disporre un'indagine ministeriale per accertare le responsabilità dei vertici della Direzione Generale, della Direzione Sanitaria, dell'Azienda Ospedaliere di Reggio Calabria e ovviamente le loro eventuali condotte omissive. Inoltre chiediamo se il Ministero non intenda disporre un'ispezione in ordine alla vicenda delle sale parto dell'ospedale di Crotone ed infine di assumere ogni iniziativa urgente che sia volta ad accelerare la copertura delle migliaia di posti mancanti, proprio per l'adempimento dell'articolo 14 della legge 161 del 2014 con riguardo al ruolo sanitario nazionale. La ringrazio Onoreo Renesci, Sottosegretario per la Salute Vito De Filippo, a facoltà di rispondere alla interpellanza. Sì, grazie Presidente. La questione sollevata con l'interpellanza in esame è analoga ad una precedente interpellanza a cui ho risposto il 29 aprile ultimo scorso. Pertanto anche in questa occasione ribadisco e fornisco tutti gli elementi informativi che abbiamo acquisito dalla struttura commissariale della Regione Calabria ed aggiungo come nuovi elementi valutativi riferiti a specifici quesiti che l'Onorevole Nesci ha posto nella sua interpellanza. In data 21 aprile 2016, come veniva ricordato, è stata notificata al direttore generale dell'azienda ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli di Reggio Calabria l'ordinanza di richiesta di applicazione di misure cautelari sezione giudice per le indagini preliminari. In conseguenza di questa ordinanza è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di tre dirigenti medici in servizio presso quella azienda e di un ex dirigente medico nonché la misura interdittiva della sospensione dell'esercizio della professione medica e o sanitaria per la durata di 12 mesi nei confronti di tre dirigenti medici di un'ostetrica in servizio presso quell'azienda nonché di tre ex dirigenti medici. I fatti contestati agli imputati sono risalenti, come veniva ricordato, all'anno addirittura 2010 e in un caso addirittura all'anno 2007. Riguardano attività di dirigenti medici e sanitari in servizio presso quelle unità operative complesse di ostetrice, ginecologia, neonatologia ed anestesia. La direzione strategica aziendale, nell'immediatezza, ha provveduto con deliberazione numero 367 e 368 del 22 aprile 2016 alla sospensione dal servizio dei dipendenti colpiti rispettivamente da provvedimenti cautelari e interdittivi disposti dall'autorità giudiziaria con riserva di adozione di eventuali successivi provvedimenti in relazione agli sviluppi del procedimento giurisdizionale in corso, che sono le sanzioni più gravi e anche più nette che la legislazione attuale prevede. Ha inoltre aperto provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti i soggetti imputati. Il Dipartimento regionale tutela della salute, in data 22 aprile 2016, ha comunicato all'azienda ospedaliera BMM di Reggio Calabria di aver costituito una commissione d'inchiesta, integrata da due dipendenti dell'azienda ospedaliera, interessati per verificare le procedure organizzative in atto alla data degli eventi avversi, oggetto dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché eventuali responsabilità individuali e l'adeguatezza della procedura in materia di risk management. L'azienda ospedaliera BMM di Reggio Calabria, con deliberazione 381 del 27 aprile 2016, l'ha provveduto autonomamente alla costituzione di una commissione d'indagine preposta alla verifica dei fatti oggetto dei provvedimenti cautelari ed interdittivi disposti dall'autorità giudiziaria nei confronti dei dipendenti aziendali, incaricata della redazione, in tempi ristretti, dice quella delibera, di una dettagliata relazione di correlate proposte operative finalizzate alla tutela dell'immagine dell'azienda gravemente lesa da quanto accaduto. Giova inoltre precisare che la direzione strategica, sin dalla data del suo insediamento, specificamente il 2 aprile 2015, ha chiesto alla struttura commissariale e piano di rientro le autorizzazioni urgenti per l'espletamento delle procedure concorsuali per la copertura dei posti di direttore di struttura complessa, tra i quali anche quelli di ostetricia e ginecologia, autorizzato con DCA 87 2015, il vincitore, proveniente dall'ospedale San Filippo Neri di Roma, ha preso servizio in data 18 aprile 2016. Allo stato attuale, quella unità operativa continua, secondo le relazioni che abbiamo ricevuto, la sua attività, senza problematiche rilevanti, grazie alla sinergia con le aziende calabresi del sistema sanitario regionale, intervenuto a supporto e inoltre la struttura commissariale con DCA 40 del 21 aprile 2016 ha autorizzato in deroga e fino al 31 ottobre 2016 l'assunzione, questa data è prevista nella legge di stabilità di quest'anno, come spiegherò alla fine della mia risposta, l'assunzione di sette dirigenti medici, di quattro ostetriche, di cinque infermieri per la unità operativa complessa di ostetricia e ginecologia e tre dirigenti medici per la unità complessa di neonatologia con rapporto di lavoro a tempo determinato a esensi, come dicevo prima, dell'articolo 1,542 della legge di stabilità di quest'anno. Svolte le informazioni sull'iniziativa avviata a livello regionale, colgo anche l'occasione per comunicare che la gravità dei fatti riportati dalla cronaca ha imposto l'attivazione immediata da parte del Ministero della Salute, che ha ritenuto doveroso chiedere alla struttura regionale responsabile della corretta erogazione delle cure e della sicurezza delle medesime tutti gli elementi relativi ai fatti accaduti, con lo specifico intento di accertare le eventuali carenze organizzative. In questa direzione vorrei ricordare nuovamente, spero non noiosamente, va considerato anche l'iniziativa di revisione della normativa sull'accreditamento di quell'articolo 7 del Patto per la Salute 2010-2012, condotta con le Regioni e la Provincia Autonoma, con lo scopo di evidenziare come il sistema stesso, che è di competenza delle singole Regioni, comprenda non solo gli aspetti tecnici e strutturali, ma anche aspetti attinenti alla qualità, alla sicurezza e alla tutela della salute dei cittadini e all'assicurazione dei livelli essenziali di assistenza. L'accreditamento, quindi, oltre a garantire una funzione regolatoria, deve essere anche uno strumento di garanzia e di informazione relativamente ai livelli di qualità delle strutture sanitarie e sociosanitarie. Con l'intesa di fatto del 20 dicembre 2012 è stato elaborato un disciplinare tecnico per l'accreditamento, un manuale contenente i requisiti essenziali. Con l'intesa del 19 febbraio 2015 sono state infatti definite le modalità e i tempi di attuazione del suddetto disciplinare. Tra i requisiti di natura essenziale contenuti nel disciplinare vi sono anche modalità di gestione della documentazione sanitaria, elemento di straordinaria importanza sul piano clinico scientifico, didattico, oltre che per la sua importanza in termini di tutela dello stesso operato professionale. Per quanto concerne la tematica, invece, del rischio clinico, con il protocollo 148 2015, la struttura commissariale della Regione Calabria ha inviato il DCA numero 70 del 29 giugno 2015, avente ad oggetto proprio l'approvazione Regolamento regionale di gestione del rischio clinico, programma operativo 2013-2015, sicurezza del rischio clinico, con il quale si approva il Regolamento regionale di gestione del rischio clinico, che definisce i combiti dei responsabili dell'unità di gestione del rischio clinico delle aziende sanitarie, individua il set di indicatori per il monitoraggio dell'applicazione a livello aziendale delle procedure che sono state adottate. Anche nella bozza del programma operativo 2016-2018, inviato ai Ministeri affiancanti in preventiva approvazione con protocollo numero 43 del 2016, la gestione del rischio clinico rientra tra gli obiettivi della programmazione regionale una specifica sezione di questa bozza di programma operativo, infatti rinvenibile a pagina 74 della suddetta bozza, in cui emerge tra gli obiettivi quello di aumentare, cito, la sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari e diminuire anche l'eventuale contenzioso. Quando alla procedura di verifica dei recusiti dell'unità operativa di cardiocrirurgia dell'azienda ospedaliera Mater Domini di Catanzaro, sulla base della documentazione disponibile si riportano ancora una volta, spero dettagliatamente, di seguito i seguenti elementi che abbiamo acquisito. Preliminarmente si rappresenta che con nota numero 24 0607 del 5 agosto 2015, il dirigente del settore numero 4 del Dipartimento Tutela della Salute, su specifica richiesta formulata dal dirigente generale della struttura dipartimentale, invitava il commissario straordinario dell'Asp di Crotone ad attivare le procedure riguardanti la verifica del possesso dei requisiti strutturali e tecnologici delle unità operative di cardiocrirurgia Mater Domini, con invito a redigere all'esito dell'istruttoria apposito verbale di ispezione da trasmettersi alla direzione generale dell'Asp di Catanzaro. Successivamente, l'incaricata commissione di autorizzazione e accreditamento, la CIA dell'Asp di Crotone, comunicava con una nota del 28 settembre 2015 al commissario dell'azienda ospedaliera Mater Domini la data del sopralluogo prevista per il giorno 15 ottobre 2015. Un secondo sopralluogo presso il locale dell'unità operativa di cardiocrirurgia avveniva invece il 18 novembre 2015. A conclusione dell'attività ispettiva in data 21 gennaio 2016, con protocollo numero 63-19, la CIA dell'Asp di Crotone trasmetteva, a esenze dell'articolo 9,6 del regolamento, allegato all'ADPGR, al decreto del Presidente dell'Aggione del Generale numero 28, all'Asp di Catanzaro, la relazione conclusiva, le cui risultanze non contenevano esplicito parere positivo o negativo sul possesso e sul mantenimento dei requisiti previsti dalla legge. Tant'è. In esito a quella relazione, con nota numero 93-71 del 1 gennaio 2016, l'Asp di Catanzaro rappresentava al coordinatore della CIA dell'Asp di Crotone che, in assenza di un esplicito, definitivo e dirimente parere, la stessa non era nelle condizioni di valutare eventuali elementi di compromissione del mantenimento dei requisiti previsti dalla legge. In risconto alla citata nota dell'Asp di Catanzaro, il coordinatore della CIA dell'Asp di Crotone, con protocollo numero 10.620 del 4 febbraio, sosteneva che l'unità operativa di cardiocirurgia dell'azienda ospedaliere Materdomini, località Germaneto di Catanzaro, non possiede al momento dei sopralluoghi della stesura della relazione finale i requisiti strutturali e tecnologici previsti dalla legge regionale 24 del 2008 e del relativo regolamento. Con la successiva deliberazione numero 72 del 5 febbraio 2016, avente ad oggetto sempre lo stesso tema, l'Asp di Catanzaro disponeva di prendere atto delle risultanze dell'attività ispettiva di vigilanza della CIA dell'Asp di Crotone, effettuata presso l'unità operativa di cardiocirurgia di Catanzaro, esitava nella relazione trasmessa in data 21 gennaio 2016 con nota numero eccetera nella nota acquisita in data del 4 febbraio 2016, protocollo numero 10.620. Con la stessa deliberazione numero 72 del 5 febbraio 2016, l'Asp di Catanzaro proponeva al Dipartimento regionale e tutela della salute la sospensione dell'attività di quella nota operativa di Catanzaro, nell'emore che il Direttore generale della medesima azienda produca ogni elemento utile a dimostrare il superamento delle criticità rilevate o presenti sul piano di adeguamento. A seguito di questa procedura di verifica, in data 10 febbraio 2016, veniva emanato il DCA numero 21 del 10 febbraio 2016, con cui, come detto, la struttura commissariale annullava tutti gli atti procedimentali relativi all'intera procedura di verifica dei requisiti dell'unità operativa di cardiocirurgia dell'azienda ospedaliera Mater Domini di Catanzaro, condotta dalla Commissione di autorizzazione dell'Asp di Crotone. La stessa struttura commissariale dava mandato al Direttore generale del Dipartimento tutela della salute, anche alla luce del contenuto dalle citate relazioni della Commissione di accreditamento di Crotone, di valutare l'opportunità di investire la competente CA dell'Asp di Catanzaro, di procedere ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 24. La struttura commissariale motivava questo provvedimento, riportando, tra l'altro, che l'azienda ospedaliera Mater Domini di Catanzaro è già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle attività assistenziali rilasciate con decreto dirigenziale ecc. L'unità operativa di cardiologia dell'azienda Mater Domini di Catanzaro risulta già provvisoriamente accreditata a esenza dell'articolo 65 della legge regionale numero 12 giugno 2009, la numero 19 del 12 giugno 2009. Pertanto risulta attivata illegittimamente, secondo la struttura commissariale, una procedura di accreditamento presso una struttura già in possesso dell'accreditamento stesso, che, se anche diversamente sia stato disposto il controllo sulla permanenza dei requisiti della struttura già accreditata, allora l'irregittimità deriverebbe dalla circostanza che, ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 del 2008, la commissione di autorizzazione e accreditamento di Crotone era ed è incompetente, in quanto, ai sensi del citato articolo 14, ho ribadito già in un'altra risposta all'onorevole Nesci questi temi, la commissione effettivamente competente era ed è quella dell'azienda, invece, sanitaria di Catanzaro. Il comma 95 dell'articolo 2 della legge regionale, della legge 23 dicembre 2009, la numero 191, espressamente prevede che gli interventi individuati sul piano di rientro sono vincolanti per la Regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti anche legislativi e a non adottare di nuovi che siano d'ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. Per quanto sopra riportato, la direzione competente del Ministero ha provveduto ad inoltrare alla struttura commissariale anche una richiesta informativa sul provvedimento di cui trattasi. Successivamente, con nota di chiarimenti numero del 18 febbraio 2016, in risposta alla richiesta dei Ministeri affiancanti in relazione al suddetto DCA del numero 21 del 2016, la struttura commissariale rileva, tra l'altro che, cito, è del tutto evidente che la procedura risulta viziata in quanto, essendo l'azienda ospedaliera Mater Domini già autorizzata e accreditata, sebbene provvisoriamente la Commissione competente a verificare solo il mantenimento dei requisiti e non certo il possesso, è quella dell'ASP di Catanzaro. Questo scrive il Commissario con piena responsabilità. per la qualcosa, il DCA numero 21 del 2016, si è proceduto ad annullare gli atti ento procedimentali, come ho spiegato, attivati sulla base di un'errata procedura e si è dato mandato al Dirittore Generale del Dipartimento di Tutela della Salute di valutare l'opportunità di investire la competente C.A. dell'ASP di Catanzaro di procedere ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale al controllo dei requisiti e alla verifica di questi requisiti. Si evidenzia che durante la riunione di verifica del 19 aprile ultimo scorso i tavoli di verifica hanno chiesto, tra l'altro, aggiornamenti in merito all'accertamento dell'assenza di situazioni di rischi a tutela della sicurezza e della salute dei pazienti. Quando all'ultimo quesito, quindi ci sono più richieste di relazione da parte del Ministero in ragione di uno dei quesiti che fa l'On. Nesci. Quanto al quesito sulle risorse umane, osservo che per consentire alle aziende sanitarie di superare le difficoltà che incontrano nell'organizzazione dei servizi e nell'erogazione delle prestazioni sanitarie ai pazienti, anche a seguito dell'entrata in vigore della nuodisciplina sull'orario di lavoro, la famosa direttiva comunitare 161, sono state inserite nella legge di stabilità per il 2016, ricordo ancora una volta, specifiche disposizioni volte a favorire un processo straordinario di assunzione nel sistema sanitario italiano. In particolare l'articolo 1,541 della legge di stabilità ha disposto che le Regioni definiscono i propri fabbisogni di personale tenendo conto proprio della cornice finanziaria programmata e delle disposizioni vigenti in materia di costo di personale, facendo riferimento a tutte le professionalità sanitarie per le quali abbiano rilevato effettive esigenze assunzionali. L'evalutazione dei fabbisogni, definita dalle Regioni, è demandata dal legislatore al tavolo di verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dell'EA, nonché al tavolo per il monitoraggio dell'attuazione del regolamento di quel decreto del Ministro della Salute del 2 aprile 2015, mi riferisco al DM70. Le Regioni dovevano mandare questi piani, i tavoli congiunti hanno già avviato la relativa attività istruttoria nell'ambito nel quale sono state già rese alcune indicazioni operative. Laddove sulla base del piano di fabbisogno del personale emergono criticità, gli enti del sistema sanitario possono indire entro il 31 dicembre 2016 e concludere entro il 31 dicembre 2017 procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico, tecnico, professionale e infermieristico necessarie a frafonte alle eventuali esigenze assunzionali e anche a quei turni di lavoro di cui è la direttiva comunitaria citata dall'onorevole Nesci. Nell'ambito delle medesime procedure concorsuali, ricordo ancora la legge di stabilità di quest'anno, gli enti del sistema sanitario possono riservare i posti disponibili nella misura massima del 50% al personale medico, tecnico, professionale ed infermieristico in servizio al primo gennaio 2016 che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi cinque, con contratti a tempo determinato, con contratti di co-co-co o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi endi, rispondendo così a un tema che è quello del precariato molto sentito nel settore della sanità. Grazie. Grazie. Onorevole Nesci. Prego. Sì, Presidente. Il sottosegretario sa bene che quelle procedure concorsuali non arriveranno mai alla fine. Ed inoltre, se ho capito bene, sottosegretario, voi non intendete attivare alcuna inchiesta ministeriale. Mi sembra...